E' ormai da mesi che sindacati, istituzioni e soprattutto lavoratori sperano che l'incontro sia quello decisivo, ma ancora ad oggi sembrerebbe un nulla di fatto. Questa mattina infatti c'è stato un nuovo tavolo al Mise per discutere dell'avvertenza FIMER che sta interessando 800 lavoratori, tra diretti e indotto, dal quale però non sembrerebbero emersi riscontri definitivi. Così i sindacati hanno deciso di far sentire la propria voce di fronte ai cancelli della fabbrica di terra nuova Bracciolini. La Regione Toscana, presente all'incontro con Valerio Fabiani, il consigliere del Presidente Gianni su lavoro e crisi aziendali, ha dato le prime indicazioni sugli esiti del tavolo. La vera partita, dichiarato, la Regione intende giocarla perché si giunga rapidissimamente alla chiusura dell'accordo che ponga fine alla crisi finanziaria di un'azienda che agisce in un ambito strategico e coinvolge il destino di così tante famiglie. Fabiani ha ricordato che nelle scorse settimane la Regione ha organizzato d'accordo con il Mise incontri con i potenziali nuovi investitori ai quali hanno partecipato anche i sindacati. Noi seguiamo questa vicenda sin da novembre, ha aggiunto prima ancora che si aprisse il tavolo nazionale. Siamo disposti a fare la nostra parte per facilitare la chiusura positiva dell'accordo a concluso, anche perché vediamo con favore l'impegno di strumenti nazionali pubblici utili a irrobustire il capitale dell'azienda, contribuire a risolvere la crisi finanziaria e quindi come elemento di garanzia dei lavoratori. Naturalmente serve anche la massima chiarezza da parte di FIMER.